Sapete da dove viene il cotone migliore del mondo? Viene dall'Egitto e Andrea Biancheria è felice di presentarvi una linea di lenzuola totalmente egiziane con delle bellissime fantasie appunto di questo bel cotone molto molto morbido proviamo a metterne una sul letto Iniziamo col mettere il lenzuolo per sotto con angoli che in questo caso è grigio misura standard ovviamente per letto matrimoniale poi mettiamo anche il lenzuolo sopra eccolo qua e mettiamo i guanciali io potrei lasciare anche il letto così perché la stampa 3D di questo bellissimo lenzuolo lo rende effetto copriletto guardate che bello oppure se preferite potete metterci anche il trappuntino Ci sono tantissime fantasie di queste lenzuola geometriche, a fiori, a righe io vi invito a venirle a vedere perché sono veramente molto belle sono molto morbide e come ho già detto il cotone egiziano è il migliore che potete trovare in commercio le potete trovare nella misura singola, piazza e mezza e matrimoniale sono disponibili anche i telecopritutto con le stesse fantasie delle lenzuola noi vi aspettiamo nei nostri negozi di Pesaro, via Giuliti 47 e a Fano via dell'Abbazia 2 grazie a tutti